Promette e scintille, ci si passa il gioco di parole, bagliori d'autore, perché protagonisti della non edizione della Kermesse artistico-letteraria perugina, con appendice a Civita Nova Marche dal 21 al 30 marzo, saranno Omero e i suoi due immortali poemi, Liliade e l'Odissea, che racchiudono in nuce l'intera narrativa occidentale. Noi avevamo la necessità di intanto scoprire un nuovo territorio geografico letterario, la Grecia, ma poi anche la sfida è che Omero è un non autore, non riconosciuto, in realtà sappiamo bene che la questione america ci dice che probabilmente non sia mai esistito, quindi è come un autore fantasma che noi trattiamo. Anche quest'anno, rispettando una formula ormai collaudata, bagliori d'autore giocherà su più piani, spettacoli teatrali, film, incontri, presentazioni di libri, in collaborazione con il Circolo dei Lettori, la rievocazione della sfida con l'arco nella reggia di Itaca, un torneo di Ciclades, gioco da tavolo dedicato ai grandi miti dell'antichità, un'intervista live con Brunello Cucinelli sulla tela di Penelope e poi... Abbiamo selezionato degli eventi con grandi ospiti come ad esempio la grande archeologa Marcella Frangipane che ha fatto gli scavi in Anatolia e poi c'è il regista Franco Piavoli che è un artigiano del cinema e che secondo me ha fatto il più gran capolavoro per quanto riguarda i temi omerici, Nostos, il ritorno sarà lui presente qua. Il Via il 21 marzo alle 17 a Palazzo della Penna con Guido Barlozzetti sulle trasposizioni cinetelevisive dei poemi omerici, il programma completo su www.baglioridautore.com